Se non è allarme e sicurezza, poco ci manca. Il tema ogni anno è ricorrente ed è quello dell'escalation di reati contro il patrimonio che si registra in questo particolare periodo dell'anno. Furti negli appartamenti e nelle ville da parte di balordi che approfittano dell'assenza dei proprietari per entrare in casa e fare razzie di ogni tipo. Il più delle volte fanno solo danni, riuscendo a portare via roba di poco valore perché oggi sempre di più quasi nessuno custodisce in casa denaro, gioielli o preziosi, ma resta la sensazione di violenza e di violazione della privacy che si ha dopo essere rimasti vittima di un furto. Le zone sono sempre le stesse, Strada del Fino, la zona del Chiancaro e quella di Madonna del Rosario, la Contrada San Paolo e ancora quella più residenziale del quartiere Montetulio. Poi ci sono i furti negli appartamenti in centro a Macchia di Leopardo. Molti di questi episodi non vengono neppure denunciati. Numericamente il fenomeno è decisamente sotto controllo e Martina Franca continua a essere un contesto piuttosto tranquillo sul fronte della criminalità. Eppure in questo particolare periodo dell'anno c'è una percezione di maggiore insicurezza proprio perché si regista ciclicamente un numero superiore di casi a ridosso delle festività in un territorio che si caratterizza per la sua significativa densità abitativa in diverse zone dell'agro. E' anche per queste ragioni che diventa difficile il lavoro delle forze dell'ordine. A queste ultime poco si può chiedere in più rispetto a quanto già fanno. Quello che bisognerebbe fare invece è aumentare la dotazione organica di polizia e carabinieri, un tema su cui sul fronte politico si era fatto carico a più riprese il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia. All'amministrazione comunale resta in capo la responsabilità in materia di videosorveglianza comunale che deve essere potenziata.